Hanno cominciato già ad evocare il fascismo, hanno già cominciato i cantanti, Damiano Dei Maneskin, mi viene da ridere, forse anche da piangere, oggi è un giorno triste per il mio paese, no Damiano Dei Maneskin, è un giorno triste per te, non per il paese, porca puttana, al limite per te, non per il paese, chi cazzo sei? Un cantante bravo, beh non sei il portavoce degli italiani, un'altra, ma mi devo calmare, si chiama Michelin, Francesca Michelin, un grande cantante, oggi inizia la resistenza, buongiorno a tutti, scritto poi con la schwa, buongiorno a tutti, manco scritto normalmente, tanto per indirizzare il messaggio alla platea, alla platea generale, ma quale resistenza, quale cazzo di cosa? Hanno votato, hanno votato democraticamente gli italiani, non rompere il cazzo e fai il tuo mestiere!